Un incidente mortale ha funestato la domenica di carnevale. Accaduto ieri mattina verso le 11 sulla strada statale 185 di Sella Mandrazi tra Novara di Sicilia e Mazzarra Sant'Andrea. Ha perso la vita Giuseppe Santamaria, 48 anni, di Barcellona. L'uomo era a bordo della sua moto e proveniva probabilmente da Novara di Sicilia. Per cause in corso di accertamento, in uno dei numerosi tratti in curva, si è scontrato con un furgone che proveniva dalla direzione opposta. L'impatto è stato devastante. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118. Verificato che le condizioni del 48enne sono apparse subito gravi, si è deciso di trasportarlo con l'ambulanza verso il vicino campo di calcio di Mazzarra Sant'Andrea. Da qui lì in soccorso si è proceduto al trasporto presso l'ospedale Papardo di Messina. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. In poco tempo sono arrivati sul luogo dell'incidente i carabinieri della stazione di Novara di Sicilia, al comando del luogotenente Luigi Morabito, i carabinieri della compagnia di Barcellona e del nucleo radiomobile al comando del capitano Gian Carmine Carusone e gli agenti della polizia municipale coordinati dal comandante Nunzio Ferrara. Sono stati loro a compiere gli accertamenti nel tratto dell'incidente. I carabinieri in avanti procederanno anche ad altri controlli per verificare le condizioni dell'autista del furgone. Dopo che si è sparsa la notizia dell'incidente mortale, si sono moltiplicati messaggi di incredulità e di cordoglio su Facebook per ricordare un uomo ben voluto da tutti e grande appassionato di moto. Non per nulla la foto scelta per l'home page del suo profilo sul social network è quella che lo vede a bordo di una Ducati. Santa Maria era uno sportivo e aveva giocato anche a calcio con l'orsa di Barcellona. Purtroppo non è la prima volta che sulla strada statale 185, un percorso che viene scelto da motociclisti e ciclisti nei giorni festivi, si verificano incidenti mortali. Per questo motivo i sindaci di Novara di Sicilia e Mazzarra Sant'Andrea, Gino Bertolami e Carmelo Pietrafitta hanno lanciato un appello alle istituzioni perché si intensifichino i controlli su una strada che per la sua importanza è molto trafficata e spesso viene percorsa a forte velocità.